Il gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani del Consiglio d'Europa denominato Greta è stato ieri a Ragusa, ospite della cooperativa Proxima per visitare i luoghi della fascia trasformata per monitorare per la seconda volta l'attuazione da parte dell'Italia della Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani. La prima valutazione dell'Italia da parte di Greta è avvenuta quattro anni fa. Nel settembre 2016 l'Italia è stata poi oggetto di una visita straordinaria da parte del gruppo. A maggio 2017 il Greta ha inviato il questionario per il secondo ciclo di valutazione della Convenzione alle autorità italiane e ha ricevuto la risposta ufficiale a settembre 2017. Durante la seconda fase di valutazione il gruppo di esperti del Consiglio d'Europa esaminerà l'impatto che hanno avuto le misure legislative, politiche e pratiche adottate dalla prima valutazione in poi. Dopo la visita di valutazione il Greta redigerà un rapporto sull'attuazione della Convenzione da parte dell'Italia. Il rapporto sarà reso pubblico dopo la sua adozione definitiva da parte del gruppo di esperti del Consiglio d'Europa prevista per l'autunno 2018. I vertici della cooperativa ragusana Proxima ha evidenziato le attività con le unità di primo contatto lungo la fascia trasformata caratterizzata dalla presenza delle comunità romena e magrebina impiegate nella monotopa da serricola dove possono registrarsi condizioni di grave sfruttamento, isolamento e degrado abitativo.